Salve a tutti da Giuseppe Ragazzino, siamo qui con un prodotto di Anycast Solutions dedicato all'iPhone 5. Avevo anche la bustina originaria, così vi facciamo vedere anche la confezione con cui io arrivo, l'abbiamo comunque già spacchettato. Nell'ultimo periodo ci sono arrivati diversi prodotti di Anycast Solutions, così per dare a tutti il giusto spazio abbiamo chiesto appunto una mano esterna. Per questo ringrazio Sony per aver condiviso poi con noi alcune impressioni sull'utilizzo, adesso andiamo rapidamente a condividerle con voi. Questo adattatore vi arriva dotato di una spillina, di una graffetta, vi permette in pratica di estrarre il vassoio del mela telefono, una volta appunto estratto il vassoio e si permette l'inserimento della SIM con estrema semplicità. Una volta però che la vostra nano SIM si ne esce dal mela telefono, essendo questo l'unico dispositivo attualmente sul mercato in grado di accettare la nano SIM, tutti gli altri, Samsung, Nokia, lavorano con la micro SIM, se dovete appunto far funzionare la vostra nano SIM su un altro smartphone, per esempio altri di altre marche, come appunto vi abbiamo elencato, potreste incontrare qualche problema. Con questo adattatore invece no, voi inserite semplicemente la nano SIM all'interno dello spazio grigio del pezzettino in plastica, vedete in questo caso, inserite il tutto, con delicatezza ovviamente all'interno di un altro smartphone e il tutto continua a funzionare senza particolari noie. In questo modo voi adattate fisicamente con un bordino in plastica, questo pezzettino in plastica bianca, vi vedete, adattate la forma di una nano SIM e la trasformate in una micro SIM. In questo modo potrete continuare a sfruttare il vostro credito telefonico, il vostro numero, quindi tutti i vostri servizi dedicati su un altro smartphone che non sia appunto l'iPhone 5. Detto ciò, il prodotto direi che è semplice e veloce da recensire, quindi o funzionava in questo caso o non funzionava. Nello specifico funziona fa il suo dovere, quindi se vi serve appunto avere questa compatibilità tra telefoni diversi con la nano SIM, il tutto funziona. Detto ciò è tutto, io non credo ci sia da aggiungere altro, pertanto vi saluto, vi ringrazio dell'attenzione e vi invito a seguirci attraverso il sito formobiles.info e i relativi canali social che abbiamo attivato per voi. Siamo su Twitter, Facebook, Youtube e Dailymotion, se ci seguite rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornati su tutto quanto andiamo a pubblicare per voi. Ora è tutto, un saluto, ci si vede online a presto da Giuseppe Ragazzino. Grazie.